Musica 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 Il nostro, comunque, diciamo che quando si fa un'emissione congiunta si può, quindi se non faccini, non ce lo spiegherà per voi. Però quando si fa un'emissione congiunta, l'emissione congiunta del Natale del 2008, soprattutto è un'emissione che è stata dedicata, appunto, ovviamente alla Natività e si è cercato di mettere un po' insieme quelle che sono le caratteristiche più importanti, diciamo, dell'arte tedesca, quindi il Dürer, che nel suo genere è un unicum, e per parte vaticana Raffaello, ovviamente. Ma saranno sempre una cosa che vale per il cuore, per la cosa dei francopolli, che valgono perché quando si compra questi si ha una bella cosa a casa.